Poi se cominciamo a parlare da scuola siamo dimenticati di addio e troppe battaglie abbiamo fatto pure per la scuola via De Ciazzolino Quindi c'è il problema della scuola, il problema delle persone, della sicurezza Ci hanno fatto questi giardini buttare in lago così non è che abbiamo qualcuno Siamo noi che ci puliamo i giardini E che cosa si può fare per cambiare questa situazione secondo voi? Un po' di collaborazione visto che paghiamo Videobox Salve mi chiamo Stefano e parlo del mio quartiere Anche se il mio quartiere è un po' sciapo di roba, però mi piace Il chiasso e tutto, sono stato ad altre quartiere del mondo C'è De Pisa e nera come Roma Io pensavo che trovo un lavoro per lavorare, per guadagnare qualche soldi E poi con i miei amici ho cominciato a fare le cose brutte E cominciamo a rubare E poi finalmente sono andato in carcere Se ti dicesti legalità tu che mi rispondi? Lasciamo perdere Non lo so vedendo Porca troia Delle cose illegali Io ho sempre fatto tutto legalmente Politici? Lei ma lì Legalità Legalità che ti viene in mezzo A me Boh Anche non c'è Ok Se ti dico legalità cosa pensi? Che ne so Ha droga sta roba qua Venito Grazie Critiche ne una Che avete fatto troppo tardi Dall'arrivo a prima Che volete? E' a inizio dell'anno Verso metà anno E poi a noi si ristate Ma a tatt'anno si ristate Vediamo No Si Basta Vi aspetto l'anno prossimo Certo E' più presto non così tardi Va bene Bene Ti Beh Ho 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 Mo U Grazie a tutti